Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Clash of Clans Tra l'altro episodio mattutino perché spero e penso che tutti voi abbiate finito scuola Quindi fatemelo sapere tramite un sondaggio qui in alto a destra se avete finito o no scuola Quindi io penso e spero di sì e fatemi sapere anche sotto nei commenti come è andato il vostro anno scolastico E se avete gli esami come me e magari anche gli esami di terza media fatemi sapere come vi state preparando ragazzi E buona fortuna a tutti voi Ma detto questo ragazzi passiamo a una cosa ancora più triste degli esami Ok forse no, forse non è più triste degli esami Però passiamo a una cosa triste ragazzi perché come avrete letto dal titolo, visto dalla miniatura Avevo preparato una troll base ragazzi dopo anni che non faccio troll base Perché voi dovete sapere che io fondamentalmente su Clash of Clans avevo iniziato a fare iscritti tramite le troll base Ovvero la mia serie di punta erano le troll base più di due anni fa ragazzi Cioè vi sto parlando di veramente ere ed ere fa Però vabbè ho detto dai rimettiamoci sto rigiocando di più a Clash of Clans e riproviamo a fare delle troll base Ho finito tra l'altro anche il doppio cannone, cioè sto cannone perfezionato Ho detto dai verrà fuori qualcosa di figo E invece ragazzi tre attacchi ho subito Uno che mi ha attaccato proprio dall'altra parte, proprio una cosa tristissima Dall'altra parte quindi proprio lasciamo stare E quindi purtroppo è stato inutile la troll base Tra l'altro ho usato anche malissimo le terremoto perché la terremoto poteva prendermi anche l'altra fila di muro Però vabbè e ragazzi appunto perché non sta funzionando la troll base Ci ho pensato dopo effettivamente sono stato un po' scemo Ho preteso troppo Io ora che mi ricordo le troll base le facevo sotto le 3000 coppe Intorno alle 2000-2500 coppe È normale che quasi alle 4000 coppe ci sia gente non scema E che quindi sia capace a giocare a Clash of Clans e che quindi non si frega tanto facilmente le troll base E se quindi la gente o non mi attaccava o se mi attaccava appunto attaccava o dall'altra parte o con degli eserciti top Infatti vedremo che il terzo esercito che ci attaccherà sarà con bocciatori e tanta bella roba E quindi anche se ci attacca da sotto riuscirà a farci le due stelle Però ragazzi ad esempio questo qui no? Questo Sendok che tra l'altro è anche Titano 2 Vabbè Cioè io vi vorrei far notare quante risorse ha fatto Ed io ero pieno eh Cioè guardate il bottino disponibile Non è affatto male Però Mi viene da ridere Perché io comunque ho messo tutti i depositi lì dietro Perché così almeno la gente mi attaccava di qua Va bene che ok a Sendok poco interessa delle risorse Perché a parte che stanno in Titano 2 non si sa quanto bottino prendono già dall'attacco Cioè il bonus di battaglia Però ragazzi veramente guardate poco bottino E tra l'altro quelle tre coppe mi ricordano tanto la vecchia scalata che feci un anno fa Perché ragazzi un anno fa sono arrivato in Lega Legenda Perché dovete sapere che io su Clash of Clans ero veramente un top player E quindi sì ragazzi tanta roba Era tanta roba quella scalata E facevo due tre coppa d'attacco Cioè vabbè non vi sto neanche qui a dire le cose che ho tirato giù Vabbè non mi fate entrare nei dettagli Perché altrimenti in questo video Non è che me lo mettono fuori dalla modalità con restrizioni No no me lo eliminano proprio quindi lasciamo stare E vediamo che Gwank è l'unico Gwank insomma come si pronuncia Ci ha attaccato dalla parte della troll base tra virgolette Però non ci ha avuto problemi perché i golem non sono saltati con le trappole a scatto Hanno resistito a tutte le difese Ecco dietro i bocciatori che sono praticamente la truppa top al momento sul canale Sì sul canale ma che so di Su Clash of Clans Capite bene che ci è riuscito a rompere tutta la troll base E io comunque ho messo tutte le trappole lì Infatti come vediamo ci ha fatto solo il 50% E comunque io avevo roba anche nel castello Lui quasi arreso avrebbe fatto massimo 55-56% E quindi comunque vedete che è tutta gente che sta a titano che ci sta attaccando Quindi ragazzi io qui vi voglio lanciare nuovamente una sfida Perché se questo video dovesse raggiungere i 7500 like Ve ne dovrei chiedere di più partiamo da questo presupposto Però se questo video dovesse raggiungere i 7500 like Io scenderò di coppe e appunto vi porterò le vere troll base Con non proprio i nabbi Però gente che sa giocare un po' meno rispetto a questa che sta a titano E quindi teoricamente le troll base dovrebbero tornare a funzionare Quindi ragazzi mi raccomando su con i mi piace Iscriviti al canale per i prossimi contenuti E niente comunque fatto vedere questo Io teoricamente tutto il video l'avrei dovuto fare su questo Perché la gente teoricamente mi doveva attaccare Ma purtroppo o non mi attacca O mi attacca e come vedete va a finire male Direi di passare sul nuovo villaggio E dato che mi è finito appunto il doppio cannone Ho potuto utilizzare tutto l'oro che avevo accumulato in questi giorni Ho fatto altre file di mura E soprattutto ho fatto partire le bombe contraere Ora ragazzi dato che abbiamo anche il disponibile Abbiamo disponibile il bottino Direi di andarlo a fare Poi tra l'altro attiverò anche la torre dell'orologio Quindi il solito episodio è abbastanza lungo Utilizzando anche la torre dell'orologio E becchiamo subito un villaggetto Che teoricamente non ci dovrebbe creare problemi Direi di andare comunque con i barbarozzi Quindi i barbari e arcieri E direi di attaccare tipo da di qua Perché lo spacca tutto Ce l'ha dall'altra parte Ma lo sapete invece raga che faccio Tutti i arcieri No non giganti I giganti mi fanno veramente schifo Tutti i arcieri ragazzi E direi di attaccare tutto 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 Intorno da questa parte Ah tra l'altro ragazzi L'altra volta ho fatto partire un dibattito Sotto nei commenti Dicendo che gli arcieri Ma anche molte truppe Sono stupide Cioè sbagliano proprio Le strutture da targettare Ma più di qualcuno Ha frainteso ciò che intendevo io Allora a parte il fatto che Vedete? Vedete? Dove sono andati questi arcieri? Dove vanno? Dove? Questo sta attaccando la torre dell'arcieri È andato di là Perché? Allora lasciamo stare che ho fatto un attacco schifoso Pensavo di fare molto meglio Quindi premetto che questo è stato un attacco Veramente schifoso Mea culpa Però mi spiegate perché quell'arciere è andato laggiù Per attaccare una torre dell'arciere Che probabilmente avrebbe colpito Rimanendo fermo E il problema è che appunto Molti hanno frainteso Perché io dico che sono stupidi Perché sbagliano l'obiettivo Non quando li posizioni Ma dopo che hanno distrutto Intanto il wifi No vabbè ti prego Ti prego Dai ok E intanto sconfitta Ma vabbè era abbastanza ovvio E appunto non è che sbagliano Il primo target La prima struttura da targettare La targettano bene Cioè vanno dove devono andare una volta posizionati E dopo il problema Impazziscono proprio Cioè vanno a targettare Robbe improponibili Oppure come in questa volta Che l'arciere ha targettato La torre dell'arciere Che ci stava a targettare In questo caso la torre dell'arciere Ma non è che l'attacca Cioè io ce l'ho vicino L'attacco No faccio Prendo la tangenziale Come direbbe Rovazzi E la vado ad attaccare dall'altra parte Non c'è senso Non c'è senso Quindi riproviamo ad attaccare Sperando di riuscire a fare qualcosa di buono Tra l'altro se vi siete persi l'ultimo episodio Dove siamo andati a fare solo vittorie Ve lo lascio qui in alto a destra Nelle schede Ora abbiamo trovato un villaggetto simile A quello di prima Perché c'è lo spacca tutto là dietro Cioè la struttura è completamente differente Però è abbastanza simile Alla fine Quindi io metterei un po' di barbari lì Vediamo se ha qualcosa altro intorno Mettiamo un altro Ok Cioè per far esplodere diciamo tutte le trappole Mettiamo altri barbari Altri arcieri per fare le cose Per far fuori le cose intorno E teoricamente Teoricamente eh Perché non è detto Anzi probabilmente no Le due stelle le riusciamo a fare con tutti questi arcieri? Sì Ok No 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 Non mi attaccate la roba dietro Andate sulla sala Andate sulla sala Andate sulla sala Ok Ok Fatemi fuori anche quella caserma Perfetto E questo è stato un attacco che ci sta Questo attacco ci sta Ora se quell'arciere facesse fuori quella miniera Come ha fatto È un grande 62% Ottimo attacco Quello di prima l'ho proprio felato alla grande Speravo di far qualcosa con tutti gli arcieri Ma evidentemente no Qui la connessione mi sta cominciando a dar problemi Grazie Ho giocato fino a 5 minuti fa Non davi problemi E ora che inizio a registrare Giustamente Va tutto a caso E niente Faccio un buon attacco E giustamente mi rompono Non dico che cosa Però mi rompono tutto Niente Faccio fail E loro fanno poco più Attacco bene E loro fanno poco più Che abbiamo deciso? Clash of Clans Ok 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 Anche questo direi di attaccarlo da quest'altro lato Facciamo fuori quella caserma Poi entriamo pesantemente con i barbari Così almeno riusciamo a far qualcosa Andiamo a far fuori le sue truppe della caserma Perfetto così Entriamo con altri barbari La bomba gigante Però non dovrebbe essere un problema Perché non avevo giocato molti barbari Nel senso che ne abbiamo ancora parecchi in vita Però dobbiamo sperare che non ha Ecco ok Un'altra bomba lì L'altra bomba ce la deve avere dall'altra parte Perché sennò ci fa fuori anche tutti questi altri barbari Comunque anche questo attacco ci sta Ora dipende tutto da lui quanto ha fatto di percentuale alla fine Perché noi due stelle siamo riusciti a farle Ora dipende tutto da lui ovviamente Comunque abbiamo fatto anche buona percentuale Cioè pensavo molto peggio Però al 60% l'abbiamo fatta Addirittura al 61% Ora quell'arciere verrà fatto fuori anche quest'altro Quindi va bene 61% Bibac ti prego Feila Feila pesantemente Così almeno noi andiamo a vincere Ci facciamo questo bottino Che ancora il primo dobbiamo riuscire a fare Tra l'altro la connessione va Solo nel momento in cui devo tornare al mio villaggio Cominciare a sfasare Che cosa è successo? Perché le stiamo perdendo tutte? Tra l'altro il mio villaggio fino all'altro giorno funzionava Per una volta che ho deciso di cambiare villaggio E farne uno che funziona Funziona perché funziona E noi iniziamo a perdere Giustamente Giustamente Cioè mi spiegate lui adesso Ma ah perché poi è attaccato tutto da là Va bene Ok Ok Allora Facciamo pure quest'altro Che c'è Non Vabbè Non mi fate commentare le partite che stiamo facendo Perché altrimenti mi uscirebbero solo brutte parole E quindi continuiamo così per la nostra strada Ora facciamo fuori quella roba lì Abbiamo fatto saltare le trappole di qua Quindi io direi di continuare ad attaccare da questo lato qui Ok Ora io ho paura solamente della bomba gigante Che spero stia lì Perfetto Così l'abbiamo fatta esplodere Questo qui è stato un attacco ripetibile Però Neanche troppo Dai una stella l'abbiamo fatta La seconda non penso mai che riusciremo a farla Però buona percentuale siamo riusciti a farla Quindi dai 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 Alessandro Lo so che hai failato Dai Speriamo Fail il nostro carissimo amico Alessandro Oh Grazie Grazie Alleluia Alleluia Andiamo ad attaccare Facciamo una cosa raga Andiamo di ignoranza con tutti gli arcieri Rifaileremo come l'altra volta Però anzi no Tutti gli arcieri e un po' di barbari Giusto per spaccare meglio questa roba qui E magari riuscire ad entrare nelle mura E magari far scattare qualche trappola Magari ci riusciamo Non lo so eh La sto buttando lì Ora Ok questi barbari No 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 Sono andati lì e giustamente lo spacca tutto L'ha fatti fuori Ma che bel attacco che abbiamo fatto ragazzi Tutti gli arcieri ragazzi non li possiamo più fare No 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 Assolutamente no basta Cioè tanto failiamo sempre abbiamo capito quindi basta Vabbè ci andiamo a prendere un po' di percentuale Sperando che Durkadir abbia Eh sì Abbia toppato Non ci credo 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 Pareggio Cioè faccio i bei Faccio bei attacchi e mi battono Failo e pareggio Giusto Allora io qua direi che lo attacco da quest'altro lato Con il mio solito esercito Perché metto tutti gli arcieri qui Metto dei barbari un po' così Perfetto proprio lì dove c'è la tesla La grande Quindi dai su 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 Fatemi fuori quella tesla Dai dai che ce la fate arcieri Dai ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ora dobbiamo mettere forza tutti i barbari Perché se no noi riusciamo a dar manforte a quest'attacco Diamo una svolta a quest'attacco Dai arcieri Dai arcieri Lo so che adesso mi riuscite a prendere anche la sala del costruttore E quindi riuscire a fare due belle stelle Dai così Dai così Perfetto Ok mo volete vedere che questa la perdiamo ragazzi Cioè gli attacchi che faccio Decenti Perché vabbè alla fine non è che sono ottime attacchi Sono decenti Li perdiamo Gli attacchi invece che fanno schifo Giustamente li pareggiamo Oh grandissimo lì che mi ha fatto un po' di Un po' di percentuale Arriviamo a 61 Lì purtroppo viene colpito E ce ne torniamo a casa con due stelle Il 61% Alleluia Alleluia Stiamo un attimino riprendendo lo smalto Evidentemente Ero un po' confuso poco fa Andiamoci a gemmare St'esercito E andiamo a farci Speriamo L'ultima battaglia E vabbè È il mortaio Cioè Alla grande però Questa proprio persa Proprio In partenza Non so neanche da dove attaccarlo Con cosa Non ce l'ho mai avuto contro il mortaio Boh vabbè Io riandrei di tutti arcieri Io quando non so come attaccare ragazzi Non so se avete capito Ma comincio a mettere tutti arcieri Però stavolta me la studio Ovvero Qui provo a far fuori Sti accampamenti un po' così Che teoricamente Ci dovremmo anche riuscire Forse l'ultimo arciere che ho messo Anche un pochettino esagerato Tra l'altro Cisi Guardate il mortaio come attacca Allora 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 Boh mettiamolo qua Che c'è sta tanta roba Quindi magari Un po' di percentuale Teoricamente dovremmo riuscire a farla Comunque Sti arcieri Sembra abbiano anche un buon attacco Quindi non lo so Non lo so Vediamo Comunque Forse Una stella Riusciremo a farla Ah vabbè Però neanche leva troppo sto mortaio Pensavo peggio Pensavo peggio Dai che una stella riusciamo a farla Dai che una stella riusciamo a farla Vai così Vai con un po' più di percentuale Vai così Vai così Va più che bene Ora il nostro avversario ci avrà rotto Perché giustamente Essendo una sala più avanti Forse c'ha più truppe Non lo so Non ne ho la più palida idea Vediamo Vediamo Lo 0% Perché che ha fatto Il replay non è più di Non lo so Raga ci ha detto bene Ci ha detto bene Ok raga dai È durato un po' Perché ci ha messo un po' Fa sto bottino Ma alla fine ci siamo riusciti Sto potenziando i cuccioli di drago Anche se li odio Perché avevo le seer Solo per fare loro La prossima truppa Che comincerò a potenziare tanto Sarà sicuramente il gigante Rendiamolo un pochettino più utile Detto questo Poi potenziarò le difese E tutto quanto Renderò la sala del costruttore Completamente al massimo Prima di portarla al 5 Vi ricordi 7000 7500 like Insomma mettetene quanti più Ne potete Per le prossime trollbase A 22500 coppe Ragazzi Io scenderei tanto di coppe E non mi converrebbe Perché io comunque Sto farmando alla grande A 3900 Però per fare quella serie Lo farei E niente ragazzi Per me è tutto E noi ci troviamo domani O dopo addirittura Con un secondo video giornaliero Non lo so ragazzi Comunque Ci troviamo con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao raga Ciao raga Ciao raga